Ciao amici della Channel, oggi faremo un nuovo esperimento, il fluido non newtoniano. Per farlo ci serve l'amido di mais, una vaschetta più o meno così trasparente e un po' d'acqua. Adesso mettiamo l'amido di mais, aggiungiamo un po' di cucchiai e poi mettiamo un po' d'acqua. Nella descrizione vi mettiamo le dosi esatte del fluido non newtoniano. Aggiungiamo un po' d'acqua e poi mescoliamo bene. Adesso mettiamo un po' di colorante alimentare e mescoliamo. Adesso abbiamo provato a preparare una versione piccolina, che col dito dovrebbe funzionare. Ma sembra tipo gomma! Se lo compiamo con forza la mano non affonda, invece se inseriamo qualcosa lentamente affonderà. Vedete, io infilo il dito piano piano e affonda. Visto che la versione mini è riuscita, adesso ne faremo una mega e ci salteremo sopra. Se lo stringete con forza tra le mani, sembra di stringere un sasso. Mentre se aprite le mani e non lo stringete con la via. Adesso abbiamo fatto la versione grande e dobbiamo provarla adesso. Non affonda. Prova. Io ci ho saldato con i piedi sopra e non sono affondata. Invece se mettete piano piano un piede, vedete che affonda. Ah ah, mi intrappola, mi intrappola! Esperimento riuscito! Se questo video vi è piaciuto, lasciate like al canale, iscrivetevi e ciao! Ciao!